Cari amici e cari amiche, ma soprattutto voi studenti e studentesse, siete giunti alla fine di un altro anno scolastico. È finito anche il 2021-2022, un anno pazzesco, davvero molto intenso, abbiamo lavorato tanto, sembra ieri quando abbiamo cominciato, eppure già finito. È stato un anno forse più pesante, peggiore da questo punto di vista rispetto all'anno scorso, un periodo di pandemia, di mascherine, di regole su regole, di burocrazia, insomma non ne potevamo più, finalmente è finita, speriamo davvero di poterle eliminare per sempre a partire dal settembre del prossimo anno, perché veramente non ne possiamo più, però volevo fare questo breve video proprio per augurare a tutti voi un grossissimo in bocca al lupo per i vostri esami e una grande buona fortuna, perché serve anche una dose di fortuna, insomma diciamolo. Ecco, mi rivolgo in particolar modo ai miei ex studenti dell'anno scorso, che quest'anno faranno gli esami a cavargere, e soprattutto anche ai miei ex studenti e studentesse di Este, saluto la terza di Este, che quest'anno appunto dovrà sostenere l'esame di Stato, mi raccomando, auguro a tutti voi un grosso in bocca al lupo, sono sicuro che ce la farete e poi per voi inizierà un nuovo percorso, avete finito soltanto una tappa del vostro lungo viaggio, siete appena agli inizi, però a tutti voi voglio dire una cosa molto importante, la società vi sta facendo credere che lo studio, questa parola mostruosa, non serva a nulla, perché tanto abbiamo internet, c'è il dio Google che è sempre qui che ci aspetta, ce lo abbiamo in mano, lo abbiamo in tasca, basta un clic che sappiamo tutto. No, quelle sono nozioni, la conoscenza che poi produce competenze, quindi abilità, è tutta altra cosa, ricordatevelo, saper riflettere, saper costruire un pensiero critico, essere mentalmente aperti, perché avete scoperto che la letteratura, la poesia, quando poi farete il latino la stessa cosa vi aprono la mente, perché vi costringono costringere, cioè vi spingono proprio ad uscire dalla vostra zona, dal vostro modo di pensare per assumere l'identità, seppur momentanea, di un altro, di un'altra persona, guardare cioè la realtà da un punto di vista diverso dal vostro e questo non può che farvi almeno comprendere l'altro, perché comprendere non significa condividere, potete anche essere contrari, potete non essere d'accordo e basta dirlo, però ricordatevelo, le cattive idee o le idee che secondo voi sono sbagliate si combattono con altre idee, cioè attraverso il dibattito e la discussione, non aggredendo verbalmente il vostro avversario che non è il nemico, ricordatevelo, è il vostro avversario e l'avversario si batte sempre lealmente attraverso il dibattito, attraverso le idee, la società invece vi insegna ad utilizzare la macchina del fango, quando non ci sono argomenti allora si aggredisce, si getta fango, si offende, si va sul personale, ecco assolutamente no, questo è ciò che vi vorrebbe insegnare, inculcare la società, no, voi invece attraverso lo studio imparerete non tanto quando è caduto l'impero romano o quando è nato Alessandro Manzoni, ma imparerete ad essere uomini e donne con la U e con la D maiuscola, cioè persone libere, libere da qualunque condizionamento, non adottate il pensiero comune, non appropriatevi del pensiero di un altro solo perché lo avete sentito ripetere all'infinito, ma attraverso il vostro ragionamento, aprendo la mente, pensando, costruite un vostro pensiero personale, anche andando contro tutto e tutti, ve lo dico sempre in classe, distinguetevi, non confondetevi, siate sempre diversi, ma soprattutto siate voi stessi, siate unici, siate cioè ciò che sentite dentro e soprattutto combattete sempre per le vostre idee, non fatevi piegare dalla società, dal pensiero unico, dal pensiero dominante o semplicemente per adeguarvi allora accettate passivamente il pensiero dei vostri amici o dei genitori o di chi vi sta accanto proprio per non deluderlo oppure per non offenderlo, per non urtarlo in qualche modo, perché in questo modo non solo impedirete a voi stessi di difendere e di annunciare a tutti le vostre idee, ma farete un errore ancora più grave, cioè soffocherete il vostro io, la vostra vera identità, perché per essere felici questo è il trucco, il segreto, essere se stessi, non essere ciò che vogliono gli altri, perché vivere la vita di un altro significa non vivere e invece come ci dice il grande Orazio, cogli l'attimo, carpe diem, qua minimum credula postero, cogli l'attimo, cioè afferra il giorno, vivi giorno per giorno come se fosse l'ultimo fidandoti il meno possibile del domani, cioè bisogna vivere adesso, ma non significa sballarsi, significa davvero essere se stessi e non lo si può fare se non costruirete il vostro pensiero, cioè le vostre idee devono poggiare su solide basi, ma non sui pilastri degli altri, sui vostri, questo è l'augurio più grosso che io possa farvi, quindi dico a tutti quelli che se ne stanno andando, che poi appunto inizieranno la scuola superiore, buon viaggio e soprattutto buona vita, ai vecchi dunque arrivederci e ai nuovi che arriveranno dico benvenuti, ma ricordatevi sempre che le difficoltà si superano, non si eludono come sempre vorrebbe insegnarvi a fare la società, cioè c'è una grossa differenza tra sostegno ed assistenzialismo, tra meritocrazia e tribunismo per esempio, perché lo vediamo tutti i giorni purtroppo la scuola è tutto tranne che meritocratica, dare a tutti le stesse possibilità significa farli partire tutti dallo stesso punto di partenza, tutti devono avere cioè gli stessi strumenti, le stesse basi, ma poi il percorso lo dovete fare voi, non lo posso fare io al posto vostro, altrimenti non vi insegnerei nulla perché vi condurrei sempre passo passo, ma se non vi lasciassi andare poi non crescereste mai, non dovete essere come l'ostrica di verga che rimane ancorata allo scoglio perché altrimenti non potrete vivere, bisogna invece abbandonarsi alla fiumana, non del progresso ma della vita e dovete cioè costruire la vostra vita anche difendendovi dagli altri perché troveremo sempre persone malvagie, più furbe o anche più intelligenti di noi, ma se abbiamo gli strumenti allora possiamo affrontare la vita, altrimenti no, quindi d'accordo siamo contro la scuola del nozionismo, quella che vi insegna a ripetere come i pappagalli, ma la scuola innovativa non significa avere solo tablet e cellulari in mano perché comunque ho il dio google e mi dice tutte le cose ma poi le devo collegare, devo saper cioè riflettere sulle cose che io apprendo altrimenti sono solo una spugna e in questo vi può aiutare solo un insegnante ragazzi, ricordatevelo e quindi un altro augurio che posso farvi è di incontrare sempre insegnanti appassionati perché è la passione che distingue un vero insegnante da un insegnante mediocre, lo dirò sempre e lo ripeterò ma questo vale in qualunque ambito lavorativo, la prima discriminante, cioè il primo requisito che dovrebbe automaticamente eliminare tutti gli altri concorrenti è proprio la passione, lo facciamo per passione, andiamo avanti, lo fai per lo stipendio per arrivare alla fine del mese o perché non trovi lavoro nel tuo settore, la scuola non fa per te perché la scuola non è per tutti, lo dirò sempre, la prima cosa quella fondamentale è la passione, i ragazzi poi lo sentono e lo vedono ma tornando a noi andate avanti, siate sempre voi stessi, affrontate con gioia e soprattutto con sicurezza l'esame di stato perché c'è chi vi dirà che l'esame è complicato, è difficile e crea ansia, crea insicurezza e quindi bisogna eliminarlo, no siete voi che dovete essere forti, è l'esame che deve avere paura di voi, non voi che dovete avere paura di lui perché se voi siete sicuri di ciò che avete studiato, avete assimilato bene tutte le vostre conoscenze, avete riflettuto e sviluppato le vostre abilità, andate dritti senza paura perché non avrete nulla da temere e in pochi giorni tutto sarà finito e vi scoprirete un giorno, non adesso ovviamente, a rimpiangere quei giorni o almeno sicuramente a rievocarli, a riviverli nella vostra mente con nostalgia e perché un'altra bellezza della nostra vita è proprio questa che è fatta a tappe, ci sono dei momenti davvero irripetibili, io mi ricorderò sempre quando ho fatto, quando ho sostenuto l'esame di stato di quinta superiore, la sera prima insieme con la mia fidanzata ci siamo abbracciati e abbiamo ascoltato la canzone di Venditti notte prima degli esami, bellissimo momento, poi siamo andati a scuola e abbiamo spaccato tutto, abbiamo fatto lo scritto di italiano, quello di matematica, quello delle lingue e delle altre materie, quell'anno c'era arte e filosofia oltre inglese e francese e siamo ancora qua siamo sopravvissuti, ecco un'altra cosa pazzesca, vi diranno bisogna eliminarli, gli ostacoli non si eliminano, gli ostacoli si superano perché altrimenti queste persone ricordatevelo, vi insegnano anche senza volerlo oppure volutamente ve lo nascondono che la vita sia facile, non è così, la vita non è facile, la vita è dura ragazzi, bisogna saperlo fin da subito e la scuola ve lo deve insegnare, questa è la differenza tra essere giusti ed essere buonisti, i buonisti fanno passare avanti tutti, cani e porci, i giusti vi danno gli strumenti, vi seguono, vi aiutano, non si vendicano su di voi in nessun modo e in nessuna forma ma lasciano che siate voi poi a proseguire lungo il cammino e a fare passo dopo passo tutti gli scalini per arrivare in cima perché ricordatevi se abbiamo tutto pronto e non ci siamo guadagnati nulla non abbiamo neanche la soddisfazione di dire questa cosa me la sono conquistata io da solo, quindi voi preparatevi, ripassate bene letteratura, storia e geografia, non lo so, tutto quello che dovete insomma ripassare, le lingue, chiamatevi, incontratevi, state insieme, ripassate anche in gruppo, poi vedrete che un giorno vi ricorderete anche con gioia e in parte anche magari con un po' di amarezza di quel giorno, di questo giorno così importante e mi viene in mente una poesia, un verso del grande Lorenzo il magnifico Lorenzo de' Medici, quando languenti e pallide vidi ire le foglie a terra allora mi venne a mente che vana cosa è il giovenil fiorire, cioè tutto passa quando vidi quelle foglie cadere a terra allora mi venne a mente, cioè mi venne in mente, mi ricordai di quanto la vita sia un soffio, di quanto sia breve e quindi voi andate avanti e assaporatela tutta questa vita, spaccate tutto, ma ricordatevi sempre una cosa, studiate sempre, leggete qualsiasi cosa, fate indigestione di libri, eccoli qua, leggete quello che vi interessa, quello che vi piace, ingurgitate libri su libri, informazioni su informazioni, non fidatevi mai di quello che vi dicono gli altri, delle opinioni altrui, non limitatevi a ripetere a papagallo, informatevi da soli, siate davvero i veri protagonisti attivi della vostra vita, questi protagonisti non quelli che vorrebbe il ministero e l'attuale inquilino, sapere aude, osa sapere, abbiate il coraggio di uscire dall'ignoranza, siamo tutti ignoranti in qualcosa, ma sta a noi uscirne, questo secondo Kant era l'illuminismo, il trionfo della ragione, non limitiamoci veramente, lo ripeto perché lo vedo tutti i giorni, ad appropriarci dei pensieri di un altro, costruite la vostra personalità, costruendo il vostro pensiero, se sentite che una cosa non è giusta, ditelo, cambiatela, protestate, fatevi sentire, fate sentire sempre la vostra voce, sempre nel rispetto ovviamente delle regole, ma non rimanete in silenzio, non statevene in disparte, perché altrimenti le cose non cambieranno mai, la maggior parte non combatte più per quieto vivere, perché pensa che ormai tutto rimanga così falso, se vogliamo possiamo veramente cambiare il mondo, perché volere è potere, ricordatevelo, ma tutto parte dalla conoscenza. Io vi saluto davvero di cuore, mi dispiace non rivedere più magari la maggior parte di voi, ma potrete sempre ritrovarmi qui nella nostra classe virtuale, potete scrivermi, potete mandarmi un saluto, potete continuare a seguirmi anche sui social, anche per tutto il tempo che vorrete, io sono sempre qua, volete scrivermi anche fra dieci anni, a me farà sempre un grandissimo piacere e vi lascio come sempre con il pensiero di un altro, semplicemente perché è migliore del mio e soprattutto rende di più quello che io voglio dirvi. Qualunque percorso scegliate di costruire, di intraprendere e soprattutto qualunque tipo di persona vorrete diventare, ricordatevi sempre di una cosa, fate della vostra vita un'opera d'arte. Gabriele D'Annunzio. A presto ragazzi, buon esame, buone vacanze, buona vita. Ciao!